il 2014 è stata una stagione molto positiva dall'inizio sono subito stato più veloce sono riuscito a lottare più o meno tutte le domeniche per il podio però c'era stato lo strapotere di marquez lo strapotere della honda nelle prime gare e quindi io ero andato andato forte avevo fatto tante belle gare ma non ero mai riuscito a fregarlo quindi siamo arrivati siamo arrivati a misano e quale posto migliore per per farlo è stato un gran weekend dalle prove mi ricordo che partivo in prima fila ma come passo ero quello che ne aveva di più e così è stato bella lotta fin dall'inizio poi però sono riuscito ad andare davanti mentre stavo spingendo spingendo forte mi ricordo dentro il casco di avere sentito un boato non proprio un boato chiaro però è successo qualcosa eravamo appena appena passati davanti alla mia la mia tribuna e c'ero davanti io e dietro c'era marquez e quindi ho fatto uno più uno io sono in piedi quindi è caduto lui sarebbe comunque stato difficile difficile batterlo però purtroppo ha sbagliato e quindi dopo me la sono dovuta vedere solo con con lorenzo però quel giorno lì era un po più veloce io e quindi non è riuscito più a venirmi a prendere ritornare sul gradino più alto in italia dopo cinque anni è stata una grande soddisfazione e mi ha dato tanta tanta motivazione e tanta forza di credere di riuscire a lottare per per vincere proprio il campionato ecco quindi è stata una vittoria importante è stata una vittoria importante